Cazzi buonasera ed eccoci qua per le schedine, questa volta proponiamo due schedine e pronostici del turno infrasettimanale 33esma giornata che inizierà domani con Inter Cagliari, martedì sera sarà allo stadio e poi l'altra partita di mercoledì. Quindi, prima schedina, con questa già si può vincere tanto. Si punta poco, si vince tanto. Con 5 euro vincita possibile circa 214. Partiamo subito con Benevento-Atalanta, fisso 2. Crotone-Juve, fisso 2. Fiorentina-Lazio, qua ci mettiamo un bel gol, dubito che ci sarà un altro 0-0. Napolodinese qua invece over 2,5, un probabile che ci siano tanti gol in questo caso. Roma-Genua, qua mettiamo un 1-1 fisso. La Roma stavolta non può sbagliare, già un pareggio con il derby, quindi perde in casa con la Fiorentina, dubito che perde in casa con Genoa. Sampdoria-Bologna, qua ci mettiamo gol. Partita difficilissima anche questa, quindi gol, entrambe le squadre devono segnare. Spal, Chievo, qua ci mettiamo under 2,5, quindi meno di 3 gol dovrebbero fare. Torino-Milan, qua Milan meno un gol potrebbe farlo, quindi ci mettiamo un gol ospite, senza risultato. Verona-Sassuolo, over 1,5, sperando facciano più di un gol e qua l'Inter non ce l'abbiamo messa, l'abbiamo esclusa stavolta. Quindi puntando 5 euro si possono vincere circa 214 euro. Qua invece mettendo l'Inter nella seconda schedina, consigliata da Alessio Miozzi, inter-Cagliari qua ci mettiamo uno fisso. Benevento-Atalanta, over 1,5, Crotone-Juve, 2, Fiorentina-Lazio, gol ospite, Napolodinese, 1, Roma-Genua, 1, Sampdoria-Bologna, over 1,5, Spal, Chievo, under 3,5 questa volta, Toro-Milan, doppia chance, x2, ci può stare. Verona-Sassuolo, x2, qua invece puntando un po' di più di 10 euro, la vincita è di circa 108, quindi due diverse opzioni, scegliete voi quello che volete, iscrivetevi al canale, questa era una schedina, tutte e due consigliata da Alessio Miozzi, consigli, ve le ripeto, prima schedina con 5 euro, vincito da 214, veramente Atalanta 2, Rodone-Juve 2, Fiorentina-Lazio, gol, Napolodinese, over 2,5, Roma-Genua 1, Sampdoria-Bologna, gol, Spal, Chievo, under 2,5, Torino-Milan, gol, ospite, Verona-Sassuolo, over 1,5, con 5 euro, vincita da 214. Seconda schedina, e qua ci includiamo anche l'Inter, Inter-Cagliari 1, Benevento-Atalanta, over 1,5, Clotone-Juve 2, Fiorentina-Lazio, gol, ospite, Napolodinese 1, Roma-Genua 1, Sampdoria-Bologna, over 1,5, Spal-Chievo, under 3,5, Toro-Mila, x2, Verona-Sassuolo, x2, questa dovrebbe essere un po' più facile, ecco perché abbiamo messo una seconda schedina, di fatto è puntando di più 10 euro, la vincita è di 108. Ragazzi, buona fortuna, vediamo stavolta se riusciamo ad azzeccare la schedina, questa volta abbiamo sempre preso soltanto 2,3. Iscrivetevi al canale e ci vediamo più tardi con il gameplay pronostico Inter-Cagliari. Ciao!